Una delle motivazioni più importanti nella proposta della legge maggioritaria del 1953, la famosa legge truffa, è stata proprio il timore della democrazia cristiana, di una crescita della destra, di una crescita incontrollabile, di una crescita di una destra che poteva realmente darle imbarazzo e noi abbiamo contemporaneamente alla riforma elettorale anche la legge scelba che è l'attuazione del dettato costituzionale che vieta la ricostituzione del partito nazista. Questo indignò persino personaggi come Vittorio Emanuele Orlando, grande giurista, che fu tenacissimo avversario di questa legge scelba che discriminava in una maniera più abbietta una parte degli italiani, che non era una piccola parte. Più interessante è osservare quella che è stata l'indifferenza se non addirittura l'ostilità del partito comunista nei confronti alla legge scelba, perché il partito comunista Togliatti, che era molto intelligente, si rendeva conto che finché esisteva il movimento sociale veniva in qualche modo messo in frigorifero un milione e mezzo di voti anticomunisti che altrimenti sarebbero finiti a rafforzare la democrazia cristiana. La legge viene però approvata dopo il risultato delle amministrative del 51-52. Nel 51-52 il movimento sociale in alleanza con i monarchici riesce ad avere successi molto significativi soprattutto nel sud, nel mezzogiorno. MSI e monarchici privano l'ADC di quasi più di un 7% dei voti, arrivano insieme ad avere quasi il 14% dei voti. Nel momento in cui questo partito conquistava grandi comuni italiani, la messa fuori legge non era più possibile, non era più realistica, sarebbe stato aprire un conflitto civile troppo pesante. Per cui rimane paradossalmente nella Costituzione, in una legge dello Stato, tutti gli strumenti per eliminare una presenza antisistemica di estrema destra, ma la realtà dei fatti, vale dire il consenso dei cittadini in confronti di questa forza, è tale per cui si soprassiede. Dunque alla fine è il consenso degli elettori a salvare l'MSI dall'estinzione. Quella del 1953 è il primo vero successo del movimento sociale, un successo che matura soprattutto nel sud, dove gli ex fascisti sono alleati con i monarchici e con i movimenti populisti del mezzogiorno. Nel mezzogiorno il clima non era stato avvelenato dalla guerra civile, non c'era né il terrore che aveva seminato al nord la liberazione con quel sangue dei vinti di cui ha recentemente parlato, ricordato, il libro di Panza né gli odi precedenti. Chi ha avuto, 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 chi ha dato, 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 scordammo ci ho passato, si me napolo paesà. Quando è arrivata la polizia noi ci abbiamo chiesto pane e lavoro, mentre lui diceva a noi andate via, andate via, ma noi ci facciamo, ma perché dobbiamo andare via, noi vogliamo la terra per seminare, per fare del brano, per mangiare, ma perché noi dobbiamo andare via, vi dico andate via, mentre noi che parliamo così, lui la polizia è messo a sperare, man grelate su di noi, e bum a mane, bum a lacrimoce, e ha ucciso asini, ha rotto barine, e insomma ha ucciso anche noi. Quelli che a Melissa vanno a occupare le terre sono Missini, gente dell'azione cattolica insieme ai comunisti. I comunisti nei primi 15 anni dopo la guerra sono stati discriminati molto più duramente di noi, i comunisti hanno avuto più di 100 morti in conflitti con la polizia e con i carabinieri, in manifestazioni sindacali o politiche di piazza, mentre noi neanche uno. La celere è stata organizzata da scelba, camionette, manganelli per pestare i comunisti, insomma. Durante gli anni 50, nonostante la scelba, il movimento sociale, grazie alle alleanze che ha, che riesce a stringere con i monarchici, gioca un ruolo molto importante, sostiene anche alcuni governi democristiani. Abbiamo appoggiato, determinato con i nostri voti, ben quattro governi nazionali. I nostri voti furono accettati, richiesti, graditi, nessuno pensò a respingerli. Nel 1953 l'anima parlamentare sta prevalendo perché c'è un'occasione, perché negli equilibri parlamentari del dopo elezioni del 1953 viene fuori una maggioranza di governo che non è più la maggioranza del 48. Abbiamo con la democrazia cristiana collaborato e sostenuto 28 giunte comunali e provinciali in capoluoghi di provincia. Noi fumo parte integrante, noi soli, della maggioranza che tenne in piedi l'onorevole Tambroni nel 1960. I nostri voti hanno contribuito a eleggere due Presidenti della Repubblica, il secondo in maniera determinante. L'MSI, insomma, non solo supera la fase della sopravvivenza, ma diventa una forza politica determinante. Determinante per sostenere giunte locali, un governo per eleggere due Presidenti della Repubblica, la classe dirigente del movimento sociale molto diversa da quella del nucleo originario fondatore. A capo del partito sono adesso i moderati, i moderati di Arturo Michelini, un ex assicuratore che guida l'MSI fino al 1969. Dentro il partito il suo grande rivale è Giorgio Almirante, amatissimo dalla base che rappresenta invece l'anima movimentista dei Missini, sono proprio Michelini ed Almirante ad animare lo scontro interno alla classe dirigente del partito per molti anni. Michelini, segretario del partito, era considerato da noi molto giovani un uomo… Non aveva fatto la Repubblica Sociale, questo già era, diciamo, ben pensante, un uomo mite. Dove era stato? Che aveva fatto? Noi eravamo più estremisti. sinceramente un corpo estremi. Però, siccome lui aveva… aveva la borsa in mano, capito? E il partito aveva bisogno di ossigeno… Io ho fatto anche delle affermazioni contrarie a statalizzazioni, che di sociale non hanno assolutamente niente. Io considero anacronistiche posizioni privatistiche sul terreno economico assunte dal movimento sociale italiano o da altri partiti. Oggi siamo alla creazione di grandi correzioni finanziarie al servizio di chi esercita il potere politico. Problemi di questo genere a noi non potranno che trovarci sempre contati. Noi, quindi, siamo molto modernamente sganciati da visioni settoriali e da visioni relative alla difesa di interessi privatistici che non concepiamo nel quadro di una economia corporativamente intesa. E' uno stato che ormai in Italia fa tutto. Perché lo stato fa il tabaccaio, vende il sale, il gioco dell'otto, le ferrovie… Non c'è problema, la banca, le assicurazioni… non c'è cosa che lo stato… Esiste, lei dice, anche una destra reazionaria. Beh, se allude al vertice della Confindustria, sono del tutto d'accordo con lei. Abbiamo pessimi rapporti con il vertice della Confindustria, lo ha rilevato l'Unità l'altro giorno e mi ha fatto grande piacere. La più grande politica sociale si ha quando si difende il potere d'acquisto della moneta. È lì.